Musica Continua l'estate di eventi al Cry Extra di Via Osi Sacro Cuore a Giuliano. Lo scorso weekend protagonista è stata la pizza, ma non solo. Degustazioni e promozioni speciali per il format unico in campagna. Sono stati tre giorni pieni di novità, pieni di piatti soprattutto, pieni di clienti, pieni di amici che sono venuti a visitarci e a gustare le nostre pietanze. Le cose che preparano i nostri chef, la gastronomia appunto, che da qualche tempo noi proponiamo anche al domicilio direttamente del nostro cliente. In più ci sono stati tre giorni dedicati alla pizza. Ci vantiamo di avere dei pizzaioli molto bravi che propongono una serie di pizze anche dai gusti innovativi. Gli appuntamenti non finiscono qui. Anche il prossimo sarà un weekend di buona cucina e animazione. La prossima settimana, che è l'ultimo evento di questo ciclo, che è quello dedicato alla Saga del Maiale. Quindi il venerdì, sabato e domenica prossima faremo questa grande festa che chiude appunto questo ciclo di eventi con la Saga del Maiale. Allestiremo all'esterno un grande barbecue dove faremo di tutto. Ci sarà sempre l'animazione, la musica e aspettiamo sempre tanti amici che vengono a gustare le nostre pietanze. La caratteristica è proprio quella, differenziarci da quelli che sono gli standard del supermercato classico. Noi cerchiamo di esaltare l'extra che abbiamo sul nostro brand proponendo sempre delle cose diverse sia, come dicevamo, al banco della pescheria con il pescato del giorno e ovviamente anche al banco della macelleria cerchiamo di creare dei preparati e delle ricette particolari per interessare il nostro pubblico. anche perché poi, diciamocelo chiaramente, oggi la donna ha sempre meno tempo per mettersi in cucina a preparare delle cose e quindi noi sfruttiamo i nostri professionisti per far sì che la signora, la casalinga o anche la donna che lavora trovi già la pietanza pronta per essere cucinata.